Non si può trascurare la disperazione delle persone, non si può non ascoltare il grido di disperazione della gente, degli italiani, degli operatori economici che non possono più rimanere chiusi. L'Italia deve ripartire, il governo deve riprogrammare le aperture e insieme a questo risarcire i costi fissi, ristorare ulteriormente le imprese perché quello che è stato fatto finora è troppo poco. Per cui siamo pronti a votare un altro scostamento di bilancio perché gli italiani non possono più attendere, hanno bisogno di un segnale immediato già da fine aprile. Aspichiamo che il governo provveda pensando anche alle aperture.